Sì, ho la sensazione che sia stato più un premio a Giovanni Boccaccio che a me che finalmente è stato premiato perché mi sembra che sia la prima volta, anche se non ho memoria delle volte precedenti, mi sembra la prima volta che il Boccaccio entra come assoluto protagonista di questo evento, di questo incontro, di questo premio. Mi dispiace che sia entrato per merito mio perché il Boccaccio non ha bisogno di un messaggero d'amore quale Aldo Busi, è talmente amoroso e grande lui che non ha bisogno di ponti. Non si può assolutamente fare una sola altra edizione del premio Boccaccio senza una lettura a tappeto delle novelle del Decamerone, sia in originale, se sono lette in modo magistrale come la lettura che ne ha fatto Lucia Poli, sia nella mia traduzione dove bisogna essere dei buoni conteur, dei buoni dicitori, ma non è richiesta una perizia così attoriale. Non so che cosa altro aggiungere se non la mia felicità di scrittore perché viene scoperto all'acqua calda, cioè viene scoperto niente meno che il Decamerone, ma lei si rende conto? Bisogna aspettare sette secoli dalla sua nascita per farlo perché questo è questo capolavoro assoluto della modernità, il libro, il romanzo in assoluto più importante della modernità dopo le metamorfosi, dopo Petronio, dopo Psiche Eros nell'Asino, insomma il libro massimo, non c'è un equivalente nella letteratura universale di un'opera così passionale, così profondamente umana, così caritatevole, così comica, così spietata, così beffarda, così anticlericale. E forse anche per questo che è stata sempre tenuta un po' sotto traccia. Sono molto molto orgoglioso di aver tradotto il Decamerone perché intanto è entrato nelle scuole, ci sono i licei più aggiornati, anche più sensati, l'hanno adottato. Nelle università, so che anche l'università di Pisa, nelle università diciamo così umanistiche, si adotta insieme all'originale anche questa traduzione, che è la sintesi definitiva della lingua italiana dalle origini al 1990, allorché io finisco, perché io non l'ho più ritoccato da allora, le dirò di più, che l'ho riletto soltanto un mese e mezzo fa, a distanza di 23 anni. E temevo di avere vergogna di me, al contrario, un'opera magnifica, è bella, è divertente. Ho riso proprio come se l'avesse scritto un altro e poi ho detto ma chi è che avrà scritto sta roba? Non riuscivo veramente a mettere insieme me lettore con me scrittore, perché la scrittura evidentemente ha un'autonomia, io non dico che sia una scrittura da medium, per cui qualcuno ti ispira e tu sei soltanto una mano che si muove su un pezzo di carta o su un computer, ma c'era qualcosa del genere. Sono stato molto contento, ma poi novelle assolutamente dimenticate, io non ricordavo più nulla, anche perché ormai ho capito che la memoria altro non è che il culto dell'oblio, quindi sono così felice di ricordare sempre di meno, a contrario degli altri, che hanno sempre paura che sia l'inizio di un Alzheimer. E io dico, ma ben venga, se questo Alzheimer è così vivace e mi mette in pace anche con me stesso perché non ricordo, perché mi manca la parola, adesso magari uno non ci crede che mi possa mancare la parola o che perda il filo, ma ben venga, sarà pure ora, no? E invece no, perché il Decamerone contiene una forza vitale, non so, entra nel sangue, lo purifica, lo velocizza, no? Ed è come se ti aiutasse a spurgare le scorie dell'amarezza e anche delle illusioni, secondo me, troppe illusioni sull'aldilà, sulla propria bontà e poi è l'opera contro l'ipocrisia per eccellenza e quindi non avrei potuto che tradurla io.